Non vi chiediamo un numero minimo di mi piace ma ragazzi su questo video fateci vedere tutto il vostro supporto Se volete anche il pronostico gameplay di... C'è un big match, non mi ricordo Milan-NAPOLI Oddio Milan-Napoli Fateci vedere tutto il vostro supporto Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti, sono rimasto sconvolto perché ho avuto un vuoto, un blackout Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche Vi ricordiamoci abbiamo un secondo canale YouTube del calcio parallelo a questo Sto a pubblicare dei contenuti La serie A realistica 2000-2001 La serie A realistica normale Le nonne, le zie Qual è quell'altro? Il mondiale, mondiale di Francia 98 Il mondiale di Francia 98 98 98 realistico quindi iscrivetevi anche là Ci abbiamo pure il terzo canale YouTube del mondo del calcio Li trovate in descrizione i canali o durante il video compariranno qui Consiglia loro un modo completamente gratuito per seguire il mondo del calcio Passate sul link in descrizione ragazzi E correte scaricare OneFootball La migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio Non aggiungiamo altro Se ancora non l'avete scaricata Che cosa state aspettando? È completamente gratuita Link in descrizione In perfetta sincronia Queste dovrebbero essere probabili formazioni Atalanta-Roma Io prendo la Roma perché nell'ultimo Napoli-Atalanta la tanta avevo presa io Andiamo Andiamo Tiè Dai che se comincia Dai che se comincia Guarda che roba qua Questi stanno spalleggiando ragazzi Questi si riscaldano e non promettono niente di buono No però anche noi ci difendiamo bene Assolutamente Vedi come storellano Vedi vedi guarda guarda Vado Sei pronto? Sì sì io sono pronto Alle 15 ragazzi Partita alle ore 15 Al Gewis Là da loro Questo questo Andiamo a fare due risate Entrano negli spalti Vai E vado Ti vedo un cattivito eh A me? È abbastanza eh Mi vedi un cattivito Un pochetto sì Ma si è fermato un essere Ma ma duvanino Duvanino tratti Trattini Chi? Lascia perdere Lascia perdere Ma qua mica si sovrappone Era pure buona l'idea Vai puzzo Che? Che è? Ah Cristante è stupato Ma mica si è morata eh Ma perché Cristante te va avanti? Ma non lo so Ma non te sta inventa storie Storielle Storielline eh No dico Il passaggio me l'hai intercettato Un pochino Aieee Se l'hai buttata in porta da solo Mi fa Oh no Che me ci ho ricordato Se l'hai buttata in porta da solo Fabio L'ultima volta State zitto Ecco Stai zitto Tacci tua Roma Inter Andatevi a riguardare il gameplay Oh niente Ha dovuto dir Eh niente Ha dovuto dir Eh State zitto Ma ciao Ecco Cioè se l'hai buttata in porta da solo Fabio mio Cioè è fatta apposta Per farci perdere la realtà Oh Tiro Ma facile pure Poi tra l'altro Centralissima Centralissima Se l'hai buttata in porta da solo Ragazzi miei Stiamo bene Mamma mia guarda Oh Sarei tentato di piar Ducolla a caso Per far vera contrario il gameplay Ma il problema sai qual è? Che te la venga il c***o Che il fatto lo sa Ilicic Quindi Non serve assolutamente a nulla Guarda che chiusura qua Ma hai fatto in vita mia Se chiusure Quando c'ho la Roma Guarda là Guarda là Vai vai C'è la volta Beh stavolta Le mani ce l'ha messe bene Per lo meno Ho provato Ma ne voglio Ne voglio fare un altro Tanto So come va a finire Quindi tanto vale Guarda che roba qua È all'attaccante Sì Ma da là Ormai Ma hai mandato fuori tempo Eh non puoi fare niente C'è dal limite dell'area Ragazzi Non puoi fare nulla Non puoi fare nulla Mamma mia Ma che colla che ha fatto Ragazzi Impressionante domanda Ma che cosa c'hai tra le chiappe Io vorrei sapere Uno uno Mamma mia Un miracle blade È sprobabile Eh ma vabbè Lascia perdere Non fate domande Ma oh Pensavo fosse fuori gioco Bravo Bravo Ma ho fatto quasi un quarto d'ora prima Bene Ottimo Fuori gioco E tagli Tagli Guarda 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 la mia Ma che sta a succedere Che è successo Fuori gioco Ho capito Ha fischiato dopo tre ore Perché in realtà Dopo quando li fischiano Eh Ardallao Ragazzi C'è un'occasione che la volo sapere Cosa ho potuto vedere Io con i miei occhi With my eyes Rannaggia Eh Sei traverso Ma che stava succedendo Non lo so Non è successo il panico un attimo Il panico Sei a tre Come potrebbe avvenire nella realtà Adalanta che ovviamente va a tirare di più Eh certo Namo Vado Fabbio Si è aperto tutto Fabbio Si è aperto tutto Vedo che te posso fare Guarda come saltano le bandierine Si è aperto tutto 2 a 1 MKH Qua roba alla fiscale Ragazzi Tard Si apre tutto Guarda Non l'ho proprio seguito Eh ma io Quello è il mio Il mio marchio di fabbrica L'alzatina Non l'ho proprio seguito In uno dei scorsi che impredo Ho fatto un gol identico Non l'ha proprio seguito Guarda che gol che ha fatto quest'altro Guarda Non l'ha proprio seguito Speriamo che si verifica nella realtà Eh vediamo Mamma mia Capito ma tu gli tiro in gol E vattene Mamma mia duvan zapata Davan Duvan Duvan No Ma mica tanto Oddio Mica tanto Oddio ha sfiorato il palo Io faccio due gambi Vabbè ormai hai giocato Vabbè vai vai Se vuoi falli Spauzizza Sì fammi far Me la spieghi Guarda guarda Ti è rimasta lì Me la spieghi C'è Me la spieghi Me la spieghi Dammi Dammi Assurdo Dammi Assurdo Dammi 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 Assurdo Dammi Guarda C'è Una cosa oscena Ma è rimasto fermo Vabbè poi sono stato bravo Poi l'ha ripreso il controllo Si ma è stato bravo Si Poi ha ripreso il controllo Ha detto un bucio di Non sei manco tu E' stato bravo Spiripim pim pim Ragazzi E' andata così Cioè De tre gol che mi hai fatto Uno me l'hai fatto bene Uno Vabbè ho detto niente E' un buono Eh buono Vai Che apertura ragazzi Buono me lo piglio Me lo piglio E me lo godo Mancini Ini 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 Ancora Fabio Se finisce 4 a 1 Per la davanti Impressionante Ma hai visto Busso che ha fatto Pure con C'è un tiro di Ma tu sai che cosa significa Questo Ma stai a vedere Che c***o Stai a fare miei Io gioco Ma stai vedendo Io ho già capito tutto Fabio Sono una cosa Unica Guarda Sotto il braccio La mia paura è che Rui Patrizio C'ha questo ruolo Nella realtà Cioè sotto il braccio So tre gol Che prende a c***o i cani Ragazzi Vai Affanculo vai Guarda quest'altro Appena entrato Mo l'ho fatto entrare Non vedo l'ora che finisce C'è sta partita di m***a Ecco Dine un'altra De parovaccia Così ci metto Ci metto sei giorni Ma mettecele pure dieci De giorni Ecco Cioè guarda E' NICO E' NICO Che spara Alle stelle Aiuto 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 C'ho paura Per la partita Vera Una cosa oscena Perché solitamente Lo sapete Come va a finire C'è De tre gol De quattro Che me ne hai fatti I tre a c***o Per colpa de musso Sempre Impressionante Adesso sai che cosa si prova Impressionante Tu me lo fai 200 volte Io lo faccio una volta Sta a fare un macello Sei diventato capo Benissimo 57 a 43 Sette tiri a 7 Ma La percentuale La vena realizzativa Del Gabon Giustamente Col time shot elevato E' tutta un'altra cosa E' certo E' con musso Che te fa la differenza Sì Ok Mi piace commentare con il video E' iscrivetevi a tutti i canali Profi socialista Come sotto in descrizione Contenuti consigliati Sento Una leggera aria Di rosicamento Batten a fan c***o Batten a fan c***o Ciao Ciao Sì Ciao Ciao